Di qualche giorno fa la notizia internazionale che pare che la famosa foto del miliziano di Robert Capa realizzata durante la guerra di Spagna sia autentica. Da ricerche che abbiamo effettuato e che ha effettuato anche l'amico Piero Berengo Gardin abbiamo visto che esistono più fotografie di più miliziani che cadono sullo stesso metro quadrato di terra e non si vede il corpo di chi è caduto per primo. Ora c'è una grande forzatura ideologica dietro il fatto di dire morto davanti all'obiettivo o fotografato al momento della morte. Lei che cosa pensa di questo rapporto tra finzione e realtà, fra documentario e reportage? Io penso che il signor Capa, che ammiro moltissimo, ha detto adesso mi fai una cortesia, vai lì, io sto con la macchina fotografica, tu fai finta, hai visto altri tuoi compagni e fai finta di essere colpito. Lo hanno ripetuto 27 volte e hanno fatto 350 fotografie. E dico questo perché non c'è niente di vergognoso in questo. Cioè se lui avesse mostrato qualcosa che non era avvenuto, che non avveniva, oppure se avesse fotografato qualcosa mentre stava avvenendo ma faceva una brutta foto, certo che lo sbarco, parliamo di un altro grande momento, lo sbarco in Normandia. È chiaro che quello non lo puoi falsificare, però forse il soldato nell'acqua col fucile la fai il giorno dopo. Perché il nostro dovere, io non ho una quantità di cose che ho ricostruito per dire che sono vere. Tutti però paragonano la foto del miliziano ad esempio all'issa bandiera di Woshima, che è storicamente una ricostruzione storica. È una ricostruzione però dà l'idea di questa battaglia. Io mi ricordo che ero un ragazzo, che emozione che mi ha fatto quella foto. Questo deve dare, che mi frega a me se l'hanno rifatta tre. Certo se mi avessero detto, questa è la bandiera che abbiamo usato sul Fujiyama, sopra Tokyo, non è accaduto, è una balla, come spesso oggi accade. Ma se il fotografo, per dare al suo enorme pubblico l'operatore televisivo, chiede di ricostruire, di rifare, di... Io mi ricordo un ragazzo, Papa Giovanni XXIII, che andò a visitare Regina Celi. Io ero aiuto regista di una troupe che stava, come in questa sala grande, inerpicata su un piccolo pianerottolo, per prendere il Papa quando entrava e tutti i carcerati intorno. S'erano state messe le lampade e il Papa entrò a raffesito di bianco. Poi fra la ripresa questo operatore, che si chiamava... Vabbè, il nome non voglio dire, comunque era romano, fece... A Santità! Spara! Cioè spara vuol dire la luce che... Ma rifaccia, per favore! Il Papa fece così, poi gli mandò in regalo anche una... un giugosario, benedetto, e voglio dire, ha fatto bene, perché quella scena, se no, era una porcheria. Il Papa è tornato indietro, cortesemente, ha rifatto l'ingresso. È vero, no? Il Papa era veramente andato dai carcerati. Sia a Irone che a National Geographic fanno un bollino rosso sulle immagini di natura ricostruite. A lei mai è venuta la tentazione di andare a uno zoo, a uno zoo safari e spacciarlo per fotografia fatta nel pericolo della savana. No, perché sono foto che non ho mai fatto, che non mi interessano. Con il video c'è però la tentazione, perché si vuole avvicinare... Insomma, noi quando l'abbiamo fatto, l'abbiamo avvicinato veramente, i pescecani o i leoni o gli elefanti. Io ne avevo fatto tutto un lavoro, come tanti anni fa, anche quello inizio anni 50, nel Congo, per andare a vedere gli pigmei che davano la caccia all'elefante per mangiarlo. Per tanti giorni mi hanno fatto 10-12 km al giorno con la macchina da ripresa, la batteria, eccetera. E poi l'elefante era vero, non è che l'abbiamo inventato noi.